Benvenuti su Meteo Giuliaci. Dopo le abbondanti nevecate sulla regione del Medio Adriatico al Sud, molti ci chiedono ma quando arriverà la neve sul Nord Italia? Ebbene, pensiamo che arriverà presto. Innanzitutto ci sarà una prima occasione il 10. Il 10 arriva a una nuova ondata di freddo fugace, limitata a 10, ma sufficiente a portare nevicate sul Piemonte, debole nevicate anche sulla Lombardia, potrebbe nevicare qualche fiocco anche a Milano, debole nevicate anche sul Trevigiano. La seconda occasione molto più intensa, molto più interessante, un'altra ondata di freddo tra il 13 e il 17 di gennaio e proprio nella giornata del 13 le nevicate potrebbero interessare tutta la regione di Nord-Est, dall'Emilia alle Venezia e lambire anche la Lombardia. Bene, stiamo a vedere, siamo fiduciosi perché i modelli ci dicono di sì. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.